Musica Troppi incidenti tra Via Lelli e Via Giglia Fano L'appello di un residente che chiede la messa in sicurezza dell'incrocio con l'istituzione del Salso Unico di Marcia Nuova stangata per la tassa sui rifiuti aumenterà del 5,6% in 5 comuni della provincia di Pesero Rubino A Fano alvia il porta a porta nelle imprese e più pulizia nei quartieri della città Invece per l'occupazione del suolo pubblico si torna alla normalità, sarà più limitato e a pagamento Ex AMGA, l'assessore Edi Morotti annuncia a breve partirà lo smaltimento dell'amianto Si raccomanda di tenere chiuse porte e finestre Centinaia di apprendisti ciceroni alle giornate fai di primavera Premiati in prefettura gli studenti di 12 istituti della provincia pesarese Buonasera e bentornati sul canale 19 per una nuova edizione di Occhio alla Notizia Come avete sentito nel nostro sommario dopo l'ennesimo incidente accaduto ieri nell'incrocio Tra Via Lelli e Via Gigli a San Lazzaro di Fano Oggi abbiamo raccolto l'appello di un residente che chiede di mettere in sicurezza quel punto Istituendo il senso unico di marcia verso il pronto soccorso Il servizio di apertura è stato curato da Filippo Pucci È uno dei tanti punti pericolosi in città Teatro di numerosi incidenti, gravi e meno gravi Stiamo parlando dell'incrocio di Via Lelli a Fano Che interseca con Via Toscanini E Via Gigli, esattamente la strada che porta allo stadio Mentre l'altra al pronto soccorso Non ultimo, nella giornata di ieri Si è verificato l'ennesimo sinistro stradale Dove ha coinvolto due autovetture Una jeep e una lancia Che durante l'urto hanno anche centrato un'auto in sosta Ed un palo della pubblica illuminazione Staccando dal supporto il corpo illuminante Qui accadono circa 10 incidenti all'anno Hanno riferito i residenti Una storia che si ripete da più di 20 anni A noi ci hanno distrutto il cancello Un'auto Un'altra volta tamponata soltanto Ma gli incidenti insomma Perché questo sembra un incrocio tranquillo Ma in realtà è un incrocio problematico Sia per le uscite che vengono dall'ospedale E dal pronto soccorso Sia per tutti quelli che vanno nei palazzi Che abitano di qua Il fatto che non c'è nessun limite di velocità Ben visibile all'ingresso di Via Lelli Poi c'è anche lo stadio con gli spogliatoi Uno stadio che non ha posti macchina Quindi le auto vengono messe lungo la via Magari chi esce dal pronto soccorso È anche un po' distratto Perché così insomma Esce dall'ospedale In più ci sono le ambulanze Che fanno un pezzo di Via Lelli contro mano Questa è l'uscita del pronto soccorso di Fano I residenti della zona chiedono interventi Da parte del comune per porre rimedio A questo annoso e pericoloso problema Tra queste una modifica alla viabilità Suggerirei di fare senso unico Su Via Beniamino Gigli Sarebbe la cosa più semplice Perché direi per esperienza appunto Che il 99% degli incidenti Avvengono perché non si fermano Quelli che provengono da Via Beniamino Gigli La soluzione ci sarebbe, ha detto il residente Perché le auto provenienti dal pronto soccorso Potrebbero percorrere Via Pizzagalli Per ritornare su Via Metauro Il problema l'abbiamo segnalato diverse volte Nel corso degli anni Scrivendo delle lettere Però l'unica cosa che fanno di solito Arrivano qua e dipingono di bianco di nuovo gli stop Eccetera Però evidentemente non è sufficiente Un uomo di 62 anni residente a Fano È stato aggredito dal suo cane Che teneva regolarmente al guinzaglio Successo alle 14.45 alla pineta di Ponte Metauro L'uomo ha riportato gravi ferite Per questo i sanitari hanno deciso di trasferirlo Direttamente alla torrette di Ancona A bordo dell'eliambulanza La moglie è presente al momento dell'aggressione Ha riferito che l'animale si è avventato L'improvviso sul marito che è caduto a terra A quel punto il cane ha dato diversi morsi al torace L'animale dopo essere stato sedato È stato prelevato dal veterinario E dall'agente tecnico dell'Asur Verrà condotto al canile comunale Il sindaco di Urbino Maurizio Gambini Ha espresso il suo cordoglio oggi Per la scomparsa della professoressa Silvia Cuppini La notizia, ha commentato Gambini Mi ha lasciato sinceramente addolorato Non la conoscevo bene Ma so che ha dato tanto alla nostra città Sia come docente universitario Sia come critico d'arte Senza dimenticare la sua esperienza amministrativa Come assessore alla cultura La sua intensa attività Ha arricchito e vivacizzato negli anni Il tessuto sociale della comunità Oltre ad aver contribuito A far conoscere Urbino Anche al di fuori dei confini nazionali Sono saliti a 547 Cioè 60 in più rispetto alla scorsa settimana I bambini e i ragazzi ucraini Comunicati dalle scuole statali e paritari Delle Marche Alla piattaforma dell'ufficio scolastico regionale Le province che nei vari istituti Ne stanno accogliendo il maggior numero Sono quelle di Macerate e Pesero Urbino Seguite da Ancona, Fermo e Ascoli Piceno La cronaca ha un tamponamento Si è verificato oggi pomeriggio Poco dopo le ore 17.30 L'incidente nel quale sono rimasti coinvolti Tre mezzi, due auto e un furgoncino È accaduto di fronte al centro pastorale di Ocesano L'ex seminario Sul posto il 118 e i carabinieri Per i rilievi di legge Cambiamo argomento Famiglie e imprese subiranno un aumento Nella bolletta della tassa sui rifiuti A spiegarci le decisioni adottate I servizi che verranno implementati È il presidente di AZET Paolo Reginelli Non solo gas, energie elettriche e materie prime Dovremo fare i conti anche con la tassa sui rifiuti Che aumenterà del 2,6% In tutti i comuni della provincia di Pesero Urbino Venerdì scorso infatti Nell'ultima seduta dell'ATA L'Assemblea territoriale d'ambito È stato approvato all'unanimità Il piano economico e finanziario della Tari Cioè lo strumento con il quale vengono definite Le politiche tariffarie per gli enti locali In più per i comuni che hanno chiesto Un potenziamento dei servizi L'aumento sarà maggiore del 5,6% Questo avverrà a Fano, San Costanzo, Colli al Metauro, Monteporzo e Mondavio I maggiori costi che Aset sopporta per questi servizi Ammontano circa 400.000 euro l'anno 420.000 E con questa manovra qui Noi ne recuperiamo solo 300.000 Gli aumenti ci sono dappertutto Perché anche Aset quando va a fare il pieno per i propri mezzi Va al distributore e paga la benzina, il gasolio, il metano Esattamente con gli stessi prezzi Con i quali li paga il cittadino Ci sono maggiori importi Quasi, non dico il doppio Ma quasi per quanto riguarda l'energia elettrica E noi abbiamo degli impianti estremamente energivori Anche se ultimamente abbiamo cercato di Appioppare e quindi collegare i nuovi impianti Con degli impianti di produzione di fotovoltaico Per cercare di attutire un attimino Le spese dal punto di vista delle spese delle energie Poi ci sono questi nuovi servizi Alla fine dai conti fatti da noi Ogni famiglia dovrà spendere quei 15 euro in più all'anno Da questo punto di vista Con 1,60 euro al giorno Ha precisato Reginelli Aset garantisce l'acqua, i servizi di fognatura La pulizia delle strade e l'arcolta dei rifiuti Una piccola riflessione secondo me va fatta Perché poi parallelamente sì Però bisogna anche capire i servizi che ci sono dietro Le persone, le mansioni e i costi che anche noi dobbiamo sopportare Nel caso del Comune di Fano verranno eseguiti nuovi servizi Mentre altri saranno potenziati Come lavaggio delle strade nella zona industriale di Bellocchi Per contenere le polveri sottili Nelle imprese la raccolta porta a porta di imballaggi di plastica E il potenziamento della raccolta manuale e dello spazzamento Nei quartieri della città Abbiamo anche il raddoppio della raccolta delle utenze In tutta la fascia del lungomare Poi abbiamo anche una serie di nuove misure Che presenteremo la settimana prossima Proprio per andare incontro anche ai bagnini Agli operatori turistici, albergatori e quant'altro Per i cassonetti intelligenti ci sono novità? Sì ci sono novità perché Chi ha chiesto per primo l'applicazione dei cassonetti intelligenti È stato il Comune di San Costanzo Quindi abbiamo fatto il bando C'è stata un'assegnazione del bando Quindi per ottobre ci dovrebbero fornire i cassonetti Quindi li provvederemo in pratica ad iniziare quest'anno Questo genere di posizionamento raccolto È uno sforzo significativo perché riguarda Sono cassonetti, essendo intelligenti Vuol dire che praticamente sono collegati Continuativamente con la centrale Ci dicono quando sono pieni Ci dicono cosa viene scaricato e tutto il resto Questa cosa qui è piaciuta molto anche ad altri comuni Quindi si sono anche presentati altri comuni con queste richieste Per noi è estremamente interessante Primo perché crediamo nella responsabilizzazione dei cittadini E in più perché vorremmo poi esportare questo modello anche su Fano Però chiaramente farlo su un Comune di 5.000 abitanti O su un Comune di 60.000 abitanti fa la differenza Quindi per adesso ci limitiamo a chi se l'ha chiesto E da lì vedremo le varie criticità, modalità e quant'altro Per poter poi perfezionarsi e entrare nel mercato di Fano Sono diverse le segnalazioni sul verde pubblico Che stanno arrivando in questi giorni alla nostra redazione Questa sera vi mostriamo alcune delle foto scattate Sia nella zona di Baia Metauro Sia al Ponte Rosso in via 4 Novembre Dove il semaforo è parzialmente coperto dalla vegetazione Risultando pericoloso soprattutto per chi deve attraversare la strada Aset che a Fano si occupa appunto del verde pubblico È al lavoro per lo sfalcio dell'erba E domani faremo il punto proprio con il presidente Reginelli Altre segnalazioni riguardano lo stato definito indecoroso Del cassonetto dei rifiuti in località prelato davanti alla chiesa Da tempo ci ha scritto ieri il reporter di strada È sprovvisto del coperchio e non solo non è stato ripristinato Ma qui non ci viene data nemmeno la possibilità di fare la raccolta differenziata Non mancano foto e video di buche e avvallamenti in diverse zone della città Sempre a Fano come in Viale Romagna, via Puccini e via Mascani Qualche lamentela c'è stata anche per il suolo pubblico Che quest'anno il comune di Fano concederà a pagamento soltanto ad alcune attività Si torna dunque al periodo pre-Covid senza chiudere le strade per lasciare lo spazio ai tavolini L'ampliamento del suolo pubblico non verrà concesso a tutti e non sarà più gratuito Come avvenuto lo scorso anno durante il quale l'amministrazione comunale di Fano Era andata incontro alle esigenze delle attività economiche duramente colpite dalle chiusure E dal calo della clientela a causa della pandemia A fare chiarezza è direttamente l'assessore Etienne Lucarelli Si cerca di tornare alla normalità, assessore, per quest'anno quali sono le disposizioni? Le disposizioni sono state quelle di concedere gli spazi all'aperto Quindi di attuare una nuova deroga che è stata approvata dal Consiglio Comunale E nella deroga è previsto appunto la possibilità ancora di concedere uno spazio di 100 metri quadri La possibilità di evadere dalla prospicenza rispetto all'attività economica Cosa che era un limite che ha il nostro regolamento E quindi in realtà la possibilità di far lavorare le attività ce l'ho aperto Perché ci siamo resi conto che la città è comunque più bella, più accogliente, piacevole E anche viva, visto che ci facciamo una serie di attività culturali Che insomma la rendono veramente viva e partecipata La deroga, ha precisato l'assessore, arriva fino al 30 aprile 2023 Lo spazio in più sarà a pagamento E in questi giorni gli uffici sono a completa disposizione degli esercenti Per tutte le informazioni del caso Siamo consapevoli che in questi due anni è cambiata anche la mentalità di gestione Quindi probabilmente insomma da novembre prossimo dovremo ragionare come amministrazione Insieme al vice sindaco Fanesi Insieme anche all'assessore Cucchiarini, ai tributi Dovremo ragionare anche come impostare questa nuova situazione che si sta creando della città Perché ci rendiamo conto che alcuni spazi Insomma sono veramente belli e accoglienti con i tavoli all'aperto Non tutti però possono beneficiarne Faccio riferimento ovviamente a questi ultimi due anni Ma allora c'è da dire che noi negli ultimi due anni in periodo Covid Abbiamo cercato di concedere più possibile Infatti siamo arrivati perfino alla chiusura delle strade Come parliamo ad esempio di via Battisti Via che ovviamente ha creato anche qualche problema Agli albergatori e ai turisti che arrivavano nella città Però c'è da dire la verità che ci sono stati momenti Dove le attività non potevano lavorare all'interno Quindi ci è sembrato opportuno concedere lo spazio del marciapiede Per poter lavorare e quindi lasciare i pedoni Una parte della strada che abbiamo dovuto chiudere Oggi ovviamente tornando a una pseudonormalità Tutto questo non è più possibile Quindi stiamo continuando a cercare di dialogare con le attività Per concedere degli spazi possibili Tra l'altro più di una volta insomma chiediamo un buon senso Anche nella gestione degli spazi perché devono essere resi belli E consoni alla bellezza della nostra città Stiamo cercando di concedere spazi ma ovviamente Tornando alla normalità anche all'apertura delle strade Quindi non chiudendole come era previsto l'anno scorso Pronti a partire con la rimozione dell'amianto all'ex AMGA Nel cantiere di via Morosini a Pesaro Lo ha annunciato l'assessore alla sostenibilità Edi Morotti Che ha rassicurato i residenti su modalità e tempistiche La ditta che è impegnata nella piantumazione Abilitata anche al trattamento di amianto Ha spiegato l'assessore La prossima settimana l'impresa inizierà l'operazione di smaltimento Garantendo ai residenti il massimo della sicurezza Nei giorni prestabiliti per l'intervento Che verranno comunicati a breve Aggiunto Morotti Raccomandiamo di tenere chiuse le porte e le finestre E di non stendere i panni all'aperto E il Comune di Pesaro Mettere in campo anche per quest'anno Le navette gratuite collegate ai parcheggi scambiatori Dislocati in città per vivere al meglio Ha dichiarato invece l'assessore Enzo Belloni Un'estate da record nel segno della sostenibilità Confermate dall'amministrazione comunale In collaborazione con Adribus Le cinque linee San Decenzio, Viale Trieste San Decenzio, Sottomonte Mare Notturna, Porto, Baia Flaminia E Riviera del San Bartolo Sono fondamentali, ha aggiunto Belloni Per garantire la sicurezza, ridurre il traffico E l'inquinamento e aiutare le famiglie e i turisti A raggiungere la spiaggia E le attività economiche della zona Inoltre a Villa Marina Si sta ultimando il parcheggio gratuito A due passi dal mare Capace di contenere fino a 200 auto Confermati anche gli spazi di Sottomonte Che saranno aperti A partire da sabato prossimo, 21 maggio Per un totale di 160 posti auto Rimaniamo a Pesaro Dove sono stati premiati Gli studenti della provincia Che durante le giornate FAI di primavera Hanno svolto il ruolo di apprendisti ciceroni Un'esperienza di cittadinanza attiva Che vuole infondere nei giovani La consapevolezza del valore Che i beni artistici e paesaggistici Rappresentano per l'intero territorio E' stato ideato con questo obiettivo Il progetto di formazione Denominato Apprendisti Ciceroni Nato nel 1996 E cresciuto nel tempo Fino ad arrivare a coinvolgere Più di 50.000 studenti ogni anno Grazie alla collaborazione delle delegazioni E dei beni FAI Il Fondo Ambiente Italiano I ragazzi hanno l'occasione Di accompagnare il pubblico Alla scoperta del patrimonio di arte e natura E di sentirsi direttamente coinvolti Nella vita sociale, culturale ed economica Della comunità Diventando al tempo stesso Un esempio per i loro coetanei In provincia di Pesaro e Urbino Sono stati 12 gli istituti Che hanno preso parte Alle giornate FAI di primavera Che si sono svolte il 25 e 26 marzo scorsi Questa mattina nel Salone Metaorense della Prefettura Si è tenuta la cerimonia di consegna degli attestati Riconosciamo agli studenti della nostra provincia Il lavoro che hanno fatto L'impegno che hanno messo Il tempo che hanno dedicato per prepararsi E per essere loro protagonisti di queste giornate FAI di primavera In quanto sono loro che con il sorriso Hanno accolto i visitatori E l'hanno accompagnati alla scoperta dei beni Che abbiamo potuto aprire Siamo particolarmente felici quest'anno Perché chiaramente la sosta della pandemia Non ci ha permesso di portare avanti questo progetto Quindi ora sembra che pienamente riusciamo a riprenderlo in mano E soprattutto siamo qui di nuovo come in passato Per ringraziare i nostri studenti e per festeggiarli L'iniziativa si è svolta alla presenza del perfetto Tommaso Ricciardi Delle autorità cittadine E dei vari rappresentanti delle scuole coinvolte nel progetto Il FAI ha stretto un'importante collaborazione Anche con l'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo Che ha portato al coinvolgimento di apprendisti ciceroni Delle facoltà della città ducale E all'apertura di luoghi di proprietà dell'Università Presente alla cerimonia Anche il Vice Sindaco e Assessore Alla cultura del Comune di Pesaro Daniele Vimini I comprensori sono messi a disposizione di questo progetto Studiando e approfondendo in vista delle giornate FAI Specifici monumenti, specifici gioielli Insomma della nostra provincia Che venivano aperti per quei giorni E facendosi appunto ciceroni ma anche ambasciatori Chiedo che sia un bellissimo modello Ovviamente consolidato ormai negli anni Grazie al lavoro istancabile del FAI E che soprattutto ci sia tanto in questo progetto Del senso della natura e della cultura Che è il tema della Capitale 2024 Soprattutto di avere quanti più cittadini Consapevoli, informati e primi ambasciatori Nel raccontare le bellezze, le storie Anche perché poi è fatto anche di aneddoti Questa cosa del nostro territorio Quindi ringraziamento veramente al FAI E a tutti gli studenti e ripeto agli insegnanti Che hanno permesso questa grande mobilitazione Che rimarrà appunto un bel background Per tanti cittadini Spazio ai sostenitori di Fano TV Questa sera ringraziamo Gina Cincini Grazie di cuore Subito dopo di noi le previsioni del tempo E poi andremo in onda uno speciale Intitolato Startup Tunisi Che riguarda la cooperazione internazionale Che ha permesso di aiutare Una trentina di aziende appunto in Tunisia Grazie per averci seguito e arrivederci a domani